Sgomberato questa mattina l'asilo di Ancona occupato dai migranti, nessun incidente ma vibrante reazione, il sindaco Mancinelli convoca una conferenza stampa per spiegare i motivi. Primarie per il segretario regionale PD nelle Marche, sulla vicenda Ceriscioli il PD nazionale prende tempo, si lavora, dicono, ha una soluzione condivisa. Il colosso americano dell'arredamento di lusso entra in poltrona fa, il titolo vola in borsa, un sogno che si avvera, dice il presidente Moschini. La rubrica medica del mercoledì, oggi parliamo dell'emicrania, una delle forme più comuni di cefalee primarie e tra le più invalidanti. Firmato un accordo tra i comuni di Senigallia e la Compagnia dell'Arancia, lavoreranno insieme per far diventare il teatro La Fenice un luogo strategico per la cultura regionale. Buonasera e benvenuti dalla redazione del telegiornale delle Marche. Era stato annunciato e questa mattina alle prime luci dell'alba, polizia e carabinieri hanno sgomberato l'ex scuola materna Regina Margherita di Via Ragusa ad Ancona. Nel nostro primo servizio, la cronaca di questa giornata. Una trentina, tutti i stranieri, tranne un italiano, hanno raccolto i loro effetti personali, sono saliti su tre pullman e sono stati accompagnati a San Marcello, in una struttura albergo del GUS, Gruppo Umana Solidarietà. Sono arrivati poco prima delle otto ad attenderli l'assessore alle politiche sociali, Emma Capogrossi, insieme ai mediatori culturali. Da qui inizia il loro percorso. Personale, come più volte specificato dall'amministrazione comunale, staranno a San Marcello per qualche giorno e poi verranno ospitati per i primi sei mesi in una delle strutture destinate a coprire l'emergenza. E parteciperanno a programmi di inserimento sociale, impareranno la lingua e troveranno un lavoro. E' avvenuto così, in modo pacifico, lo sgombero di Casa dei Nealtri. Si è arrivati alla liberazione della scuola dalle persone che le occupavano, in modo del tutto tranquillo, quindi faremo anche con queste 27-28 persone, quello che abbiamo già fatto con un'altra trentina di persone che erano passate attraverso quella vicenda dell'occupazione, e cioè offrire loro delle concrete alternative di risposta al loro problema e nello stesso tempo recuperare quell'edificio pubblico del comune alla destinazione sociale che aveva. Il leader del movimento hanno detto chiaramente che non è con lo sgombero che ci fermeranno e hanno chiesto le dimissioni del sindaco e dell'intera giunta. Sulle dimissioni non mi pronuncio, confido sul buon senso e sull'intelligenza dei miei concittadini. Casa dei Nealtri ha organizzato per domani pomeriggio un presidio sotto il palazzo del comune e sabato 15 febbraio una manifestazione con corteo che partirà dai giardini di piazza Ugo Bassi. Il comune invece il 18 febbraio presenterà alla città il nuovo progetto casa che riguarderà tutti, non solo le emergenze di estrema povertà come questa, che ha detto Mancinelli, ma hanno trattate con percorsi diversi fatti da cooperative sociali e con bandi. Ora l'asilo è libero, già la prossima settimana i tecnici del comune faranno un primo sopralluogo per iniziare i lavori di riqualificazione e destinarlo così a centro diurno per disabili. Nulla di fatto a Roma per l'elezione del nuovo segretario del PD nella riunione dei vertici regionali del partito nella sede nazionale a Roma. Nei giorni scorsi, dopo la bocciatura della Commissione Nazionale di Garanzia della candidatura di Luca Ceriscioli, il sindacolo escluso si era rivolto direttamente a Matteo Renzi, ma la riunione di questa sera non ha cambiato. Le carte in tavola. Flavia Fazzi. Una riunione auspicata, attesa, necessaria per sciogliere il nodo delle primarie marchigiane, nato il 30 gennaio dopo l'incandidabilità del sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli, ma il nodo rimane, forse è solo un po' meno stretto. A presiedere l'incontro a Roma, Luca Lotti, della segreteria nazionale fedelissimo di Matteo Renzi, insieme ad Enrico Morandi, presidente della Commissione di Garanzia che pochi giorni fa aveva bocciato Ceriscioli. Non mancava lo stesso sindaco, escluso dalla corsa, e gli altri due candidati ammessi, Francesco Comi e Gianluca Fioretti. Con loro anche il segretario regionale Palmiro Ucchielli, che uscendo ha dichiarato «Stiamo lavorando per far sì che il congresso si svolga in un clima di pacifico confronto democratico dove prevalga la discussione politica». Questo in risposta a quanti chiedevano di rinviare il congresso regionale previsto per il 16 febbraio, a chiedere uno stop ci sono anche tre dei cinque segretari provinciali. Spazio dunque a nuovi incontri, a nuove verifiche, ma per il momento i candidati alla segreteria regionale rimangono due e non tre. L'orientamento del partito del resto era apparso da subito molto netto, visto che era stato posto l'accento sul fatto che l'articolo 21 dello Statuto, sui criteri di incandidabilità, è inequivocabile. Intanto circa 80 segretari di circolo del PD delle Marche annunciano «Se non si consentirà al sindaco di Pesaro, Luca Ceriscioli, di partecipare, non organizzeremo i seggi nei nostri comuni. L'esclusione di Ceriscioli dalle primarie, sostengono gli 80 segretari, è un atto di estrema gravità che disorienta gli iscritti». Lo storico marchio dell'arredamento di lusso marchigiano poltrona frau protagonista oggi in borsa. L'origine della corsa sul mercato azionario è la notizia che l'americana Hayworth acquisterà il 58,6% del pacchetto azionario detenuto da Charm e Moschini. Il servizio è di Nicoletta Grifoni. La notizia è piovuta sul mercato azionario di prima mattina attraverso un comunicato della società e dall'apertura della borsa il titolo di poltrona frau attivo nel segmento star e già in accenno di fermento nei giorni scorsi per alcuni rumors si è reso protagonista della giornata altrimenti piuttosto tiepida, giungendo a superare il 18%. Gli investitori hanno dunque subito recepito il messaggio contenuto nel comunicato diffuso dall'azienda. Poltrona frau ha raggiunto l'accordo con la potente Howard, azienda del Michigan, Bianchi, che acquisterà il 58,6% del capitale al prezzo di 2,69 euro ad azione. Se l'operazione avrà il via libera dell'antitrust, lancerà subito dopo un'offerta pubblica obbligatoria di acquisto allo stesso prezzo. Tutto verrà perfezionato entro il mese di aprile e darà vita ad un colosso dell'arredamento di design di gamma alta. Se gli attuali proprietari Charm, che fa capo a Luca di Montezemolo, e Franco Moschini, il presidente che l'acquistò da Nazareno Gabrielli nel 62, si avvarranno dell'opzione proposta da Howard di avere una partecipazione nella società pari in totale all'8,4%, potranno nominare fino a tre membri del CDI ed esercitare una serie di funzioni di controllo. Il coronamento di un sogno è di un lungo lavoro, secondo l'imprenditore marchigiano Franco Moschini, che nel 2003 fece entrare in società il fondo Charm diretto ora da Matteo Cordero di Montezemolo, un'opportunità detto di espansione mondiale di cui beneficeranno anche i nostri stabilimenti. Nessun passo avanti nella trattativa relativa alla vertenza del gruppo Ferretti, azienda che costruisce yacht dopo l'incontro di oggi all'Associazione Industriale di Forlì. I manager della Ferretti, la proprietà cinese, hanno confermato la volontà di chiudere lo stabilimento di Forlì con 50 esuberi e centinaia di trasferimenti che riguardano gli stabilimenti di La Spezia e Mondolfo. Trasferimenti che per i sindacati, che hanno confermato quattro ore di sciopero per lunedì, sono licenziamenti mascherati. Martedì prossimo incontri delle rappresentanze sindacali con gli assessori regionali di Marche ed Emilia Romagna, nel corso dei quali sarà chiesta l'apertura di un tavolo ministeriale. Il caso ex Coalac non si è ancora concluso, nonostante la decisione del gruppo Coperlat di fare del sito produttivo ascolano un semplice polo logistico, continua la battaglia dei sindacati. Vediamo. La regione Marche ha approvato la richiesta dei sindacati di aprire un tavolo istituzionale sulla vicenda Coalac. L'obiettivo è salvare lo stabilimento di Ascoli Piceno che rischia il declassamento a mero polo logistico come confermato dalla Cooperlat la scorsa settimana. La richiesta è stata formulata dai sindacati durante il vertice di ieri ad Ancona con l'assessore al lavoro Lucchetti e quello all'agricoltura Malaspina. Presenti al lavoro istituzionale dovranno esserci la regione, la Cooperlat e i sindacati dei lavoratori Coalac. Questa potrebbe essere davvero l'ultima spiaggia per evitare una decisione che ormai sembra irremovibile. Il gruppo Cooperlat ha espresso l'esigenza di spostare il conferimento del latte proveniente dagli allevatori di Ascoli e da quelli abruzzesi a Iesi per ridurre i costi e mantenere la continuità occupazionale dei lavoratori. Dunque il tavolo istituzionale si farà ma ora si dovrà capire quando. Continua il trend negativo nel settore dell'elettrodomestico a Fabriano eppure si intravedono segnali di ripresa con il gruppo Elica che chiude il 2013 positivamente. Un nuovo gruppo intanto ha avviato la produzione in uno dei vecchi stabilimenti della ex Antonio Merloni acquistato un anno fa. Analisa Serpilli. Che la crisi si sia accanita sull'area industriale di Fabriano non è una novità. Eppure qualcosa si sta muovendo. Gli ultimi dati confermano il trend negativo che corre a braccetto con quello del settore dell'elettrodomestico. Secondo gli ultimi dati IMI San Paolo il bianco e le cappe hanno registrato un calo del 4,6% nel terzo trimestre del 2013. Eppure al di là dei dati alcuni fermenti di un tessuto industriale che resiste e vuole ricominciare a guardare oltre il muro della crisi ci sono. I dati presentati ieri dal gruppo Elica Leader nel settore delle cappe aspiranti ad esempio fanno ben sperare. La crescita alla chiusura del 2013 si è attestata a un più 4%. Le perdite sul mercato interno ci sono ma si registrano crescite a due cifre fuori Europa con un più 25% negli Stati Uniti e buone performance anche in Cina e in Russia. Altro piccolo e importante segnale è la ripresa da gennaio della produzione all'interno di uno degli stabilimenti dell'ex Antonio Merloni che un anno fa fu acquistato dal gruppo Metaldesi di Cerretodesi. Un esempio di salvataggio di uno dei pezzi di storia industriale della città sulla scia dell'imprenditore Porcarelli e della sua JP. Il seme di un piccolo movimento prodotto dal famoso accordo di programma stipulato tra regioni Marche, Umbria e governo per far ripartire tutto il territorio. Metaldesi che si occupa della lavorazione dell'acciaio e entro l'estate riassorbirà 10 dipendenti della Exardo una goccia nel mare dei 1500 per i quali da maggio scatterà la mobilità ma anche lo spiraglio di una lenta ripresa. E come vi abbiamo annunciato ieri è stata riaperta al traffico la strada di Porto Novo dopo la frana di domenica. Ora si lavora per completare la rimozione di sassi e fango e posizionare una grande rete metallica di protezione. Riccardo Milletti. È finito l'isolamento di Porto Novo la strada panoramica unica via di collegamento con la località marittima che domenica sera era stata invasa da una frana di grosse dimensioni è stata riaperta al traffico. Dalle 12.30 di oggi i veicoli hanno ricominciato a circolare a senso unico alternato con traffico regolato da un semaforo per lasciare lo spazio necessario ai tecnici del comune di Ancona che continuano a lavorare con i loro mezzi per rimuovere la grande quantità di sassi, alberi e fango ammassata sulle reti di protezione a fianco della strada. Un lavoro lungo che richiederà all'incirca una ventina di giorni prima di essere completato. Nel frattempo i rocciatori studiano la parete per rimuovere gli ultimi ostacoli e piazzare i chiodi di sostegno della grande rete metallica di sicurezza che verrà montata sul fianco della montagna. Questo dovrebbe servire ad evitare in futuro il ripetersi di episodi come questo. Una buona notizia per gli operatori turistici della splendida Baia di Porto Novo che in questi giorni di isolamento sono stati costretti a disdire le prenotazioni degli ospiti di alcuni convegni. Più flessibilità negli orari di lavoro per le donne ma anche per gli uomini che hanno figli fino ai 10 anni di età e quanto vuole favorire il protocollo di intesa firmato oggi in Regione il servizio di Loredana Cintioni. Orari di lavoro più elastici ma anche una più estesa fruibilità dei servizi offerti dal territorio e una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne. Questi gli obiettivi del protocollo d'intesa siglato in Regione tra breve saranno emessi bandi a favore di piccole e medie imprese che potranno attivare una serie di iniziative. Il finanziamento statale ammonta 380 mila euro e ogni progetto non potrà avere più di 12 mila euro. I fondi saranno destinati alle aziende collaboratrici che hanno figli fino a 10 anni di età con la priorità a quelle che hanno bimbi sotto i tre anni ma i progetti dovranno interessare anche i padri con una premialità alle aziende che lo proporranno. Sappiamo quali siano le difficoltà delle donne sappiamo come le donne in qualche maniera soffrano più degli uomini il tempo di crisi proprio perché per propria natura le donne oltre a a dover eseguire lavori di cura quindi soprattutto rispetto ai figli hanno tutti i diritti di poter lavorare soprattutto di aspirare a delle crescite di carriera. La Guardia di Finanza delle Marche ha presentato i dati dell'attività svolta nel 2013 in primo piano la lotta all'evasione fiscale. Sentiamo. Un anno con risultati lusinghieri ottenuti grazie alla collaborazione di tutti i comandi provinciali della regione così il generale Umberto Sirico comandante regionale della Guardia di Finanza ha commentato l'attività svolta nel 2013 dal corpo in primo piano la lotta all'evasione fiscale sono stati 428 gli evasori totali scoperti da soli hanno sottratto al fisco circa 600 milioni di euro i due terzi del totale scoperto dai finanzieri sono quasi 900 i milioni di euro di basi imponibili sottratte a tassazione scoperti nel territorio marchigiano e a cui fa da pandante gli oltre 9 milioni e mezzo di prodotti contraffatti sequestrati è ovvio che la lotta all'evasione fiscale è una lotta che la Guardia di Finanza sviluppa a sostegno delle imprese che hanno deciso di rispettare le regole sempre alta l'attenzione anche sulle infiltrazioni mafiose 30 i soggetti denunciati e 1 milione e 600 mila euro il valore dei beni sequestrati alle mafie ancora il traffico di droga con 2 tonnellate di stupefacenti sequestrate in prevalenza hashish e marijuana arrivati al porto di Ancona quasi 3 milioni di euro i contributi pubblici percepiti frodando la pubblica amministrazione infine l'odioso reato dello stoccaggio di rifiuti in siti abusivi 4.600 le tonnellate di rifiuti sequestrate come ogni mercoledì torna il nostro appuntamento dedicato alla medicina oggi parliamo di emicrania Flavia Bruni è andata al centro cefalee della clinica neurologica degli ospedali riuniti di Ancona è nella classifica delle malattie più invalidanti istilata dall'OMS l'organizzazione mondiale della sanità qualcosa di più di un comune fugace mal di testa l'emicrania è una forma di cefalea primaria che altera in maniera significativa la qualità della vita di chi ne soffre e le performance nel lavoro e colpisce in prevalenza le donne è un mal di testa molto comune noi dividiamo in alcune fasi una fase che precede il dolore che viene definita aurea emicranica una fase caratterizzata da dolore di solito pulsante prevalentemente a livello delle tempie delle orbite qualche volta a livello della nuca e poi una fase che segue il dolore in cui c'è un'alterazione dell'attenzione e un malessere diffuso le crisi sono tra l'ora molto frequenti e possono avere una ricorrenza particolare per esempio durante le mestruazioni o nel fine settimana o in coincidenza di particolari abitudini del paziente quali sono le strategie terapeutiche per l'emicrania? il primo obiettivo più importante è far sì che l'emicrania sia meno frequente rispetto all'abituale quindi una terapia preventiva delle crisi il secondo aspetto degli obiettivi terapeutici è quello della risoluzione tempestiva del fenomeno doloroso cioè della crisi stessa e per questo si usano farmaci particolari con caratteristiche speciali a seconda del paziente per esempio un paziente che ha vomito precoce non può assumere farmaci per bocca e allora lì si riassume attraverso altre vie o uno spray nasale o una supposta o un'inizione quando si parla di prevenzione in che consiste? la prevenzione dell'emicrania corre su due strade parallele una di ordine farmacologico con sostanze che rendono le crisi meno frequenti e meno intense e una seconda di tipo comportamentale finalizzata a ridurre la risposta individuale allo stress e può basarsi in maniera molto semplicistica su un allenamento del soggetto a sforzi fisici protrati proprio per ridurre la risposta della scarica adrenalinica che può essere la base della crisi micranica firmato un protocollo di intesa tra il comune di Senigallia e la compagnia dell'arancia insieme per fare del teatro la fenice un luogo strategico per la città e per lo spettacolo il servizio di Francesca Piatanesi Senigallia nuova capitale del musical da oggi in poi sede della compagnia dell'arancia grazie al protocollo di intesa valido fino al 2017 che prevede per la compagnia fondata a Tolentino nel 1893 e oggi tra le più grandi società private produttrici di spettacoli teatrali da Grisa da Kez a Frankenstein Junior la disponibilità esclusiva del teatro la fenice per 90 giorni l'anno e la gestione in esclusiva per prosa e commedie musicali essere a Senigallia per noi è molto importante perché è un teatro molto grande bello con bellissimo patrocenico per poter allestire i nostri spettacoli questo accordo con il comune ci rende orgogliosi oggi è l'inizio speriamo di andare avanti con idee nuove dando spazio sicuramente ai giovani perché è il loro momento giovani di talento una collaborazione che permetterà di fare del teatro la fenice un luogo strategico di respiro nazionale con l'obiettivo di costituire un teatro stabile e privato portando a Senigallia progetti di insediamento promozione e sviluppo di residenze artistiche una grande opportunità ha detto il sindaco Maurizio Mangialardi un prezioso rapporto di partnership che prenderà nel futuro la forma più adeguata insieme valuteremo il meglio per la nostra città concordando il percorso con la regione Marche e con l'AMAT è stato depositato questa mattina in Cassazione il ricorso sulla sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila che il 30 settembre scorso aveva condannato a 30 anni di reclusione Salvatore Parolisi per l'omicidio della moglie Melania Rea e perché il fatto non sussiste il Tribunale di Ancona ha assolto Gilberto Paoloni ex direttore dell'ARPA mora in pensione Adriano Celani direttore amministrativo dell'agenzia dai reati di concorso in abuso d'ufficio e falso ideologico bene è tutto per questa edizione il prossimo appuntamento è a mezzanotte 10 circa con l'edizione della notte grazie per averci seguito e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti